Siamo in un'epoca post-moderna in cui c'è tanta difficoltà sia a livello sociale, a livello politico, a livello religioso e civico. Quindi avere e vedere nell'Accademia un punto di riferimento fermo con dei valori molto alti aiuta a tenere quella che una volta si diceva la retta via, in questo momento di smarrimento, però di mare un po' mosso. Il mio desiderio è quello di continuare a ingrandire ancora di più l'Accademia sia a livello nazionale ed anche a livello europeo e mondiale, perché dobbiamo cercare di tenere unito il mondo nel suo tessuto sociale e quindi è importante l'unità di intenti.